Ciao a tutti ragazzi, sono Mirko e sono studente della Bonus Anter Academy di Alessio Murra. Sono qui per farvi questa breve testimonianza, per consigliarvi fortemente di entrare a far parte della Bonus Anter Academy, che per me è l'accademia che insegna l'attività più bella e più proficua degli ultimi tempi, cioè l'attività del match betting. Io già venivo dal mondo dei bonus, dal mondo dei match betting, frequentando un'altra accademia che per me poi si è rivelata sbagliata, troppo complicata più che altro, per via di videocorsi troppo lunghi, troppe ore di teoria e poca pratica, e quindi poi questo mi ha distaccato da questa attività, quindi non volevo fare più bonus. Poi dopo un paio di anni, girando su Instagram ho visto la sponsorizzata di Alessio, inizialmente ero un po' scettico per via del mio passato, perché non volevo ricadere più in accademie troppo teoriche, però poi l'ho contattato per capire Alessio cosa mi offriva, e alla fine sono rimasto sbalordito, perché insomma ho trovato un percorso ben strutturato, videocorsi di poche ore e pratici, dove ti insegnano passo passo quello che devi fare. Questo per me è stata la svolta, perché ho ripreso a fare questa attività grazie ad Alessio e la Bonus Center Academy, sono due mesi che ho iniziato di nuovo a fare profitti, per me questo è stato il cambiamento. Io dico che Alessio con i suoi ragazzi hanno fatto un bel lavoro, un ottimo lavoro, è veramente un'accademia fantastica, dove ti insegna in piccoli passi, proprio passo passo ti insegna come farla al meglio questa attività, diventando un vero professionista proprio di questa attività. Io ringrazio Alessio e la Bonus Center Academy e il suo team per avermi dato questa opportunità di entrare a far parte dell'accademia. Ve lo consiglio fortemente e niente ragazzi, entrateci perché veramente vi può cambiare la vita in meglio, perché è un'attività bellissima, è semplice e poi quello che troverete all'interno della Bonus Center Academy è veramente pratico. Io dico che quasi da livello elementare, quindi passo passo vedete videocorsi e applicate. Cioè è più facile di così, secondo me non trovate nulla. Ok? Ve la consiglio fortemente. Vi saluto, ciao ragazzi.